Musica Un cordiale saluto, un ben ritrovati a tutti voi carissimi telespettatori di Fano TV che in tanti tutte le mattine ci seguite, sintonizzati sul canale 17 la rassegna stampa del mattino, occhio ai giornali tra poco vedremo quali sono le notizie più importanti di questo fine settimana tenendo conto che oggi essendo luoghi ci sono gli inserti sportivi quindi le cronache cittadine sono limitate nella fogliazione allora andiamo a vedere prima il santo del giorno poi oggi perché per i fanesi è un giorno importante si festeggia il patrono, il patrono è san paterniano ed è vescovo, è stato vescovo il sole, tra l'altro il primo vescovo di Fano il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.52 per quanto riguarda il tempo non è che ci sia molto da dire nel senso che il tempo oggi sarà buono con rovesce temporali ma soltanto limitati nell'entroterra le minime sono stazionarie e le massime sono in lieve diminuzione i venti di brezza tesa andranno però ad intensificarsi lungo la costa e diventeranno fino a vento moderato quindi attenzione se oggi andate al mare e entrate in acqua il mare comunque questa mattina sarà poco mosso per la giornata di domani 11 luglio avremo cielo irregolarmente nuvoloso ma splendente lungo tutta la costa marchigiana i venti saranno regime di brezza, il mare è poco mosso le temperature sono senza variazione di rilievo per i prossimi giorni farà ancora caldo e avremo tempo stabile è stato arrestato il trentenne di Senigallia che l'altra sera di rientro da un matrimonio ha centrato la fiancata destra dell'auto un'auto di servizio, un'auto aziendale sulla quale viaggiava Loris Fratticelli con sua moglie lo sapete, la moglie purtroppo non ce l'ha fatta è morta sul colpo, gravi e stabili le condizioni invece del titolare dell'omonima azienda di Salumi di Calcinelli andiamo a vedere i giornali allora cominciamo dal resto del Carlino arrestato per omicidio stradale questa è la prima pagina la fotonotizia è grande era ebro al volante con oltre 1,5 di alcol nel sangue il trentenne di Senigallia che sabato sera ha provocato a Calcinelli la morte di una donna e il ferimento grave del marito ed è stata applicata la nuova legge una fotografia della moglie di appunto Loris Fratticelli questa è la prima pagina entriamo nelle pagine interne allora vediamo che cosa scrive il giornale su questa tragedia che è avvenuta appunto a Calcinelli Colli al Metauro arrestato il trentenne a bordo della Lancia reduce da una festa guidava il ticcio il test ha rivelato che il conducente aveva oltre 1,5 di sangue lui si chiama Enrico Turchi 30 anni Senigallia conducente appunto da Lancia Delta che ha centrato lateralmente il furgoncino dei coniugi Fratticelli ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale tra l'altro è un arresto obbligatorio scrive sempre il giornale questa mattina vedete nel caso di fatti specie come quella avvenuta a Calcinelli che prevedono pene da 8 a 12 anni di reclusione l'arresto del conducente dunque diventa obbligatorio e non è più facoltativo probabilmente o forse una distrazione forse consultava il navigatore non si è accorto dello stop da lì insomma la violenza dello schianto se avessero preso il fuoristrada l'altra notizia che trovate sempre su questa pagina se avessero preso il fuoristrada forse Adriana sarebbe ancora viva per caso la coppia ha usata il meno solido furgoncino aziendale li ha visti i vicini di casa li ha visti partire poi il fragore dello schianto Loris è grave in ospedale a Pesaro ma stabile Adriana Cascero ex professoressa di educazione fisica nella scuola media di Saltara è ricordata come una donna buona e generosa che si prodigava nell'aiutare chi era in difficoltà e così scrive invece sulla pagina del Corriere Adriatico di questo fatto di questa notizia di cronaca schianto muore la moglie di Fraticelli giovane in cela per omicidio stradale Adriana Cascero sbalzata sull'asfalto la guida dell'altro mezzo un trentenne di Senigallia positivo all'alcol testa la coppia sull'auto che ha causato lo scontro rientrava appunto come dicevamo da una cerimonia la vittima si occupava di Villa Tombolina la donna rientrava a casa con il marito che è in gravi condizioni l'incidente è successo proprio all'incrocio il salumificio è un salumificio di successo scrive questa mattina il giornale pensiamo alla salute questo era lo slogan di Remo Fraticelli detto conosciuto e detto Loris ed era orgoglioso chiaramente dei suoi prodotti una filosofia di questa impresa che ha fondato 50 anni fa e che lavora il suino di marca marchigiana diciamo dei fanesi che oggi festeggiano il loro patrono e la pagina 14 del Corriere Adriatico è proprio sugli appuntamenti di oggi a Fano per celebrare la festa del patrono la tombola che chiude poi la giornata nel santuario invece ci saranno messe ogni ora e alle 21.15 di questa sera ricavato dell'estrazione quindi di questa tombola andrà ai fratti Cappuccini che gestiscono appunto la Basilica di San Paterniano in palio in questa tombola ci sono 2500 euro c'è anche l'intrattenimento musicale in piazza e poi si parla dell'adeguamento sismico della scuola Medianuti lavori alla fine di agosto partiranno alla fine di agosto finanziati con mezzo milione di euro per eliminare l'elevato rischio l'intervento era stato programmato prima del terremoto poi arriverà l'adeguamento sismico anche per le scuole della Gandiglio e del Padalino la prima pagina del Corriere Adriatico di questa mattina la cronaca e la fotografia di Sottomonte Trafano e Pesaro con le immancabili soste selvagge soprattutto nel fine settimana gente che vuole andare al mare che va al mare che manda però in tilt con tanto di scene di ordinare a follia mandano in tilt alla statale 16 Adriatica intanto invece il parcheggio San Decenzio resta vuoto questo è il paradosso poi la cronaca vedete qua a fianco sposi tornano dal matrimonio e trovano la loro casa svaliggiata hanno fatto un foro sull'infisso sono entrati un bottino di 2000 euro salvi però almeno questo i regali della lista di nozze loro si sposano mentre i ladri svaliggiano la casa niente di più facile soprattutto per i ladri basta andare a vedere quelle pubblicazioni di matrimonio che ancora sono affisse in giro e che quindi sono come dire ormai un bigliettino da visita per i ladri che tac poi entrano in azione doveva essere un giorno di festa per questa coppia che si è sposata sabato pomeriggio purtroppo così non è stato perché dopo il loro ricevimento i balli sono rientrati a casa e hanno scoperto che la loro abitazione in via Po era stata presa di mira appunto dai malviventi dai lati il bottino circa 2000 euro e come dicevamo salvi però i regali di nozze andiamo sull'altra pagina sempre peso lo dicevamo di questa bolgia dantesca sulla statale 16 per la sosta selvaggia sottomonte 4 chilometri a rischio mentre il parcheggio quello destinato ai bagnanti che vogliono andare al mare resta quello del San Decenzio resta vuota poi gli strascichi di questa notte rosa pesarese lascia bottiglie lettini rotti al parco invece Miralfiore dove c'è stata l'ondata di persone per il free vax cioè quelli che si battono per la non obbligatorietà dei vaccini c'è stato questo appuntamento sabato pomeriggio al parco Miralfiore non c'è stato nessun danno e ieri il sindaco Matteo Ricci il sindaco di Pesaro ha ringraziato tutti forze dell'ordine protezione civile e organizzatore perché sono entrati chiaramente sotto pressione c'erano un sacco di eventi un sacco di iniziative e il personale insomma alla fine è sempre lo stesso a Pesaro tra l'altro c'è stato anche un appartamento che è andato a fuoco panico ma per fortuna in via San Francesco in questo condominio solo danni si temeva che l'inquilina fosse dentro la casa lo stabile è stato salvato dai pompieri mentre un anziano ha chiesto aiuto dalla finestra arriva anche l'ambulanza ma non c'è stato bisogno di portare via nessuno perché nessuno è rimasto intossicato però i danni sono gravi il rogo è partito dalla cucina che è andata completamente distrutta tanti sono i disagi e dal fuoco di un appartamento al grande rogo sulle Cesane che ancora ieri faceva un po' paura soprattutto per queste colonne di fumo che sono state avvistate anche ieri possibile ritorno di Canadair cavallo imprigionato nel dirupo è il racconto di quella che è stata un'altra giornata di vigilanza e di controllo sulle Cesane che hanno già dato un contributo in termini di vegetazione altissimo pensate 200 ettari andati completamente in fumo dal resto del Carlino i fatti di cronaca da Pesaro vandali al porto solito strascico della festa sporcizia elettini distrutti invece al Lido del marinaio dopo un concerto la rabbia del gestore e questo è il racconto con tanto di fotografie che testimoniano quello che è accaduto a Trasanni invece di Urbino un quattordicenne vola con la sua moto ferite gravi per questo ragazzo tutta colpa del cavalletto era partito senza accorgersi che purtroppo non l'aveva sollevato non aveva tolto il cavalletto e purtroppo quando è arrivato alla curva è caduto a terra e un 29enne invece a Pesaro è stato denunciato dalla polizia municipale per omissioni di soccorso mentre in mare è stato soccorso un gommone e migliora il ragazzino ferito da un'elica il mare mosso ieri ha giocato un brutto scherzo ad un equipaggio che ha rischiato di naufragare sugli scogli da Urbino invece la festa per la Benelli di armi cinquantenni da protagonisti noi dicono i fondatori folli affamati e sperimentatori un galà c'è stata una festa un galà con delle premiazioni tanto entusiasmo per questa celebrazione dell'azienda guidata dall'ingegner Moretti nella foto anche il sindaco Gambini che è intervenuto appunto a questo galà dalla valle del Cesano invece San Lorenzo in campo restyling per il centro storico e sicurezza alla scuola materna prosegue il programma dei lavori pubblici della giunta di San Lorenzo infine da Senigallia droga e alcol dopo la festa sequestrate 25 dosi di erba un ragazzino ubriaco si accascia a terra soccorso dal 118 a due passi dai binari ok è tutto per la segna stampa di questa mattina io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale Occhio alla Notizia non so se è andato in onda ma comunque c'è anche la sottopancia in sovraimpressione il 338 4968 250 che è il nostro numero telefonico per le vostre segnalazioni anche con Whatsapp a voi tutti l'augurio di una buona giornata ci vediamo stasera aú a a a a a Autore dei sovrapposti